Gatano Masucci, si torna da Perugia con una sconfitta e che è un po' di rammarico per le tante occasioni mancate. Sì, purtroppo sì. Come abbiamo visto, purtroppo queste prime partite gli episodi l'hanno fatta da padrone. Oggi magari non è stata una bella partita dal punto di vista della fluidità del gioco, però di sicuro abbiamo avuto le nostre occasioni importanti. Loro sono stati bravi a metterla dentro, noi meno. Dobbiamo lavorare su questo e su altri accorgimenti. Si può dire che dopo un inizio brillante adesso il Pisa sta scoprendo le difficoltà di questa categoria? Ci sarà da soffrire, ma lo sapevamo. Sì, questo sì. Dobbiamo essere bravi, soprattutto noi un po' più esperti a mantenere l'equilibrio. Diciamo, le prestazioni sbagliate, c'è qualche spezzone che magari abbiamo concesso. Siamo in una categoria nuova, c'è la qualità. Dobbiamo fare quel percorso che deve fare una promossa, adattarci alla categoria. Penso che comunque gli episodi a volte ti danno, a volte ti tolgono. Quello che magari ci ha tolto adesso sicuramente ci darà in futuro. Si riparte dagli applausi che comunque sono arrivati dai mille tifosi pisani presenti qua al Curi. Sì, quello dobbiamo solo ringraziare. Ringraziare e continuare a lavorare a testa bassa, cercando di dare altre soddisfazioni a questa gente. Ci sostiene sempre.